Sì all'impianto biometano incontrato a Piana Scunchi Pani da parte della Mai Etanol. Lo ha confermato ai nostri microfoni Claudia Casa, direttrice di Legambiente Sicilia, che sottolinea il fatto di come vi sia un eccessivo allarmismo attorno a questa vicenda. Allora, noi abbiamo detto a più riprese che siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione di impianti di produzione di biometano, perché questo è già il presente ed il futuro per quanto riguarda soprattutto la frazione umida dei rifiuti, ma in quel caso tra l'altro non c'entrerebbe neanche niente perché lì si andrebbero a recuperare e a mettere a valore gli scarti agricoli. È chiaro che poi va fatto un ragionamento caso per caso e va verificato se l'avvio di imprese di questo tipo combacia con quelle che sono le esigenze del territorio. Lì siamo comunque in un luogo che è una zona agricola e che comunque aveva già un impianto industriale che funzionava. Per cui a noi sembra sinceramente che non ci siano contraddizioni sulla scelta di questo imprenditore di avviare lì questo tipo di azienda. Molti su questo impianto hanno questa doppia paura. Da un lato che ci possano essere dei cattivi odori e dall'altro che magari in futuro questo impianto possa portare a bruciare rifiuti. No, non è assolutamente così. Gli impianti di produzione di biometano non bruciano assolutamente rifiuti e basterebbe da questo punto di vista, ma mi rendo conto che non è facile farlo per tutti, andare a verificare come funzionano questi impianti in luoghi in cui già esistono, costituiscono delle realtà affermate e vi possiamo assicurare che noi che abbiamo avuto esperienze di questo genere e che quindi siamo andati a verificare queste cose, se gli impianti funzionano bene, se sono costruiti a norma, se i progetti rispettano tutte le regole, questi non sono assolutamente impianti che portano un documento al territorio, ma anzi facilitano il percorso che è stato intrapreso e soprattutto contribuiscono a far diminuire le tasse per i cittadini. Grazie a tutti.